Grazie 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 Se ci giudessero qual è stato il tempo più bello? Forse ecco quello potrebbe essere un tempo bello, no? Quando appunto aspettavano il nuovo duro e l'idea della festa, no? E' sempre comunque complicato sapere, anche io intanto continuo a fare così, mi vedete già un po' più, va bene? Va bene, perché non vedete i calzoni voti vi preoccupate ancora, stanno in questo tempo Grazie Grazie Anche la seconda ritirazione finita E allora è sempre difficile vi dicevo rispondere a una domanda, io ho cercato, con questa domanda del tempo bello di una vita, io ho cercato in una delle mie ultime canzoni di descrivere questo periodo e di sapere quali erano stati i momenti più cari e gli anni più belli.